Il Veneto con una sua reindustrializzazione, quello che intendiamo dire è di aumentare la percentuale del manifatturiero sul PIL del Veneto. Oggi la percentuale è del 24%, dobbiamo pensare di arrivare almeno al 30%, ma di un manifatturiero nuovo, un manifatturiero ibridizzato dai servizi innovativi e tecnologici, un manifatturiero che possa essere sì l'asse portante della nostra industria, ma che possa essere in grado di competere nel mondo. Il Veneto e Padova si propongono come cantiere per questo cantiere innovazione? Certo, oggi abbiamo presentato una ricerca che è una parte di un percorso che si vuole fare con la regione Veneto e con Veneto Sviluppo. Ma perché Padova-cantiere? Perché Padova ha un tessuto industriale che è la rappresentazione massima del Veneto. Padova ha il 30% dei servizi innovativi e tecnologici del Veneto, sono basati su Padova. Quindi Padova può essere veramente il territorio migliore per sperimentare quello che di nuovo abbiamo chiamato il manifatturiero digitale o il manifatturiero ibridizzato dai servizi. Qual è l'appello che si vuole lanciare al nuovo Premier? Diciamo che quello che lui ha annunciato di fare, quindi queste prime manovre di pagamento integrale dei debiti di Repubblica Amministrazione, riduzione in doppia cifra del cuneo fiscale, credo siano già due cose importantissime. E' chiaro che per supportare queste manovre deve trovare le risorse. E noi abbiamo già da tempo in Confindustria individuato tantissimi capitoli dove si possono reperire le risorse. Quindi basta a leggi finanziarie a saldi costanti, ma andiamo a tagliare la spesa pubblica in produttiva, andiamo a fare la giusta battaglia contro l'evasione, non solo laddove i liberi si trovano, non solo delle nostre regioni industrializzate e andiamo a reinvestire ogni singolo euro che recuperiamo da questo in detassazione e in primis sulla riduzione del cuneo fiscale.